Buonasera. Ciao. Come va? Tutto a posto? Non c'era ancora nessuna fortuna. Sembra tutto a posto. Allora, stasera sono previsti, sono quelle poche sere che vedo più o meno in testa cosa vale perché vorrei darvi delle ricette che richiamano ancora carnevale, però in più ci ho messo anche qualcosina che se riesco a farlo è qualche idea per la cena di San Valentino, non c'è niente di rosso però qualcosa di ispizioso da fare a casa. Bene, vorrei farvi il ghiaccio salato, il ghiaccio dolce, le castagnole, vediamo dove andiamo a parare. Stasera ci sta pure il riede di Giovanni? Buonasera. Allora, abbiamo acqua, iniziamo col ghiaccio salato, acqua, burro. Noi il ghiaccio salato già l'abbiamo fatto la settimana scorsa, però non l'abbiamo fatto con una variante, con la pasta dentro che è una cosa eccezionale. Allora, acqua, arrivano tantissimi saluti, c'è Gennaro Catafano, Elisa, Elisa Canetti. Buonasera Elisa, sale. Allora, perché mettiamo i saluti nell'acqua? Li mettiamo nell'acqua un pizzico di pinochietto, li mettiamo nell'acqua perché l'acqua la insaporiamo bene di grassetto. E poi dopo ce l'andiamo a mettere un po' di pinochietto pure, ce l'andiamo a mettere anche, eccolo, anche accanto. Ah, una cosa, io sono l'unico in questa cucina che non tiene la mascherina, tanto per noi, perché ogni volta puoi dire mettiti la mascherina, mettiti la mascherina. Allora, intanto, sono l'unico che non tiene la mascherina perché non potrei cucinare, assaggiare, fare tutta questa parola. Parlare. Facciamo sciogliere il culo, nel frattempo accendiamo il nostro bollitore. C'è Lucia Colella, ben trovati, grazie per tutta la bontà, l'allegria e le buone idee. Ciao Lucia, buonasera. Allora, qua abbiamo i bucatini, ma potete farlo con qualsiasi tipo di pasta. Come vi dico sempre, voi fatelo con, guardate sempre nel vostro, nella vostra dispensa cosa avete. Se avete la pasta bucata, la pasta bucata è il meglio, un bucatino. Ma seppur avete dei pancheri vanno bene lo stesso, non è che dovete comprare per forza i bucatini. Pichiate, come dice la nonna, laion di bucatini, di pasta, di zin, di cannello, quello che tenete e voilà. E fate il ripieno per il migliaccio. Giovanni D'Andrea e Ludo R. ci salutano. Ciao Giovanni, buonasera Ludo. Allora, è partito intanto il migliaccio salato. Enzo Pescatore e Maria Loreto. Ciao Enzo, buonasera. Maria, ciao, buonasera e grazie sempre per essere qua con noi. Avete visto quante cose stanno capitando questa settimana? Avete sentito che ci hanno affidato la consulenza delle cucine, cosa importante che tengo a precisare. perché io sono il consulente, non ho preso la gestione assolutamente. Sono il consulente per questo c'è. Allora, latte, burro. Per questo ci saranno anche la brigandieri e i ragazzi in cucina che cercheremo di fare qualcosa di buono. Allora, latte, burro. Maria Romano chiede, i capelli d'angelo vanno bene? E' zucchero. Maria, diciamo che vanno bene. Ma a me non mi fanno impazzire. Perché diventa troppo compattato. Se trovi una pasta bucata, secondo me è meglio. Oppure se non tieni la pasta bucata da consumare, puoi usare sicuramente un vermicello. va bene uguale. Ma proprio lo spaghettino diventa troppo, non basta. Allora, io ho leggermente sbollentato i bucatini. Poi che faccio? Li metto giù nell'acqua della base dell'acqua di migliaccio. Nazario. Mi faccio andare piano piano. L'acqua è misurata. Ecco. Poi Rosaria vi darà le ricette. Chiedeva quanta acqua c'era nella ventola? L'acqua è un litro e due di acqua. Invece qua stiamo passando al migliaccio dolce che è una cosa molto molto saporita. Secondo me tipica di queste zone. Noi l'abbiamo fatto anche sul Repubblico ma era con la pasta prole. Invece questo qua è senza pasta prole. Allora, latte, burro e zucchero. Appena prende il bollore. Semolino. Perché la settimana scorsa mi sono semolore e che succede? Allora, semolino. Mettiamo il semolino. Ecco. Lo facciamo andare, bello. Piano piano, finché non inizi a tirare. C'è Domenico Farese che chiede se abbiamo scelto l'hashtag. Non ancora. Non ancora. Domenico. Venerdì prossimo ci siamo arrugati di una settimana perché è una cosa importante. Perché diciamo come fosse in marchio di fabbrica. E per questo vogliamo essere sicuri di quello che facciamo. Ecco qua. Quando inizia a bollire è bello. Lo facciamo cucinare e tirare un poco. Salutiamo. Giacomo De Rosa e Annuccia Salzano. Ciao Giacomo. Caro Annuccia. Quando prima venremo in Sicilia. E c'è Walter Serra che chiede migliaccio dolce o salato? Certo. Tutta due, Walter. Questo è il dolce e questo è il salato. Allora, ricapitolando. Abbiamo fatto un acqua aromatizzato con gli agrumi e un poco di burro o si potrebbe mettere soglia. Un pizzico di peperoncino e un pizzico di finocchietto selvatico. Ho sbollato i bucatini e poi li metto dentro a cucinare. Immaginate già che può essere questo bucatini. Già da solo sarebbe tanta roba. Lo facciamo ammollare perché poi... C'è Antonio Iengo che dice nel migliaccio salato al posto della sugna posso usare olio evo? Se sì, in che quantità? Sì, sì. La quantità è sempre la stessa. Se non mi sbaglio questo è 60 grammi. Vabbè, puoi sostituire sicuramente. Ecco qua. C'è Emanuele Caporaso che dice grazie a Rosaria per aver postato subito la ricetta delle chiacchiere. Ecco qua. Non ho dormito. Grazie a te Emanuele, sei sempre speciale. Ecco qua. Allora, una volta che il semolino inizia a tirare ed è bello cotto, lo togliamo dal fuoco e veniamo da quest'altra parte. Mettiamo un po' di cubetti di canditi. Ricchi Attila ci saluta e Francesca Montemurro. Ciao Ricchi e ciao Francesca. Buonasera Francesca Montemurro direttamente da Matera. Il vostro primitivo è buonissimo. una bellissima grattugiata di limoni. Giovanni è andato appena appena nell'orto e fanno un profumo che è una cosa eccezionale. Limoni e arancia. Giovanni è pronto il ruoto per il migliaccio? Sì. Eccolo qua. Mettilo qua. Ruoto bello imburrato. C'è Vito Carlo Magno che dice qui a Caserta. Lo mettiamo qua bello sistemato e lo mettiamo a riposare. Nel frattempo riposa facciamo un altro servizio. che a Caserta il migliaccio salato lo fanno con la polenta. Questo con la pasta non lo conosceva. No Vito, questo è un mix. Allora, l'alto. Facciamo velocemente. Vi ho visto che ci sono tanti. Zucchero e farina. Potete usare altri amidi così. Per questa crema così la possono mangiare anche i vegetariani. un po' queste invece le farine 00. La stemperiamo. Vedete? Pochissimo latte alla volta. Mi raccomando altrimenti farete un sacco di grumetti. ci salutano Aldo e Clu, i tuoi fan genovesi. Ciao Aldo, buonasera Clu. Come va? Spero tutto bene. Vediamo bene. Vediamo bene. Vediamo bene gli amidi di grumetti. Questo è il sistema per velocizzare il latte. Il latte. Poi lo sai dividere tutte le ricette. Questa è la crema che ci serviva da mettere nel migliaccio. Tra le uova metti un po' più grande. C'è Nello Bergamo che ci saluta da Alicante. C'è Nello Alicante. Alicante fanno tra i migliori torroni al mondo. Se non i migliori torroni al mondo. Ecco qua. Sbatti le uova per favore. Allora noi invece andiamo vicino al migliaccio che è troppo buio. Questo è proprio in Africa. Guardate. Andiamo ad aggiungere il semolino come dicevi tu. Capito? In aggiungo ci sta solo la pasta. Ma questa è una cosa esagerata. Questo Facebook deve rimanere bene. Questo è già così. E si mangia. Eccola qua. Guardate che cosa è qua. Nel frattempo. Dammi le uova. Aggiungiamo le uova. Abbattuto. e c'è Nello che risponde si vicino a dove abito fanno il torrone è qualcosa di slevitoso il torrone di Alicante aveva avuto modo di mangiarlo qualche volta e tanta tanta roba ci saluta tanto 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 da Vico Salvatore Salvatore eccolo qua Salvatore si è svegliato dalle fatiche della mattinata se è riposato giustamente poi fra poco dalle fatiche del pomeriggio e poi andrà Nanna per questo sarà tutto stanco eccolo qua vedete come deve essere bello asciutto la crema invece sta bollendo e aggiungiamo la crema al migliaccio al semolino c'è Angelo Schiano che ti fa un grande in bocca al lupo per la nuova esperienza e chiede saluti per la figlia Marianna ciao Angelo grazie mille grandissimo abbraccio a tua figlia Marianne e incrociamo le dita Giovanni ti dà un altro poco di arance e mi vuole capire intanto c'è Dora Sorrentino che ci saluta e dice domenica scorsa ci siamo consolati con la tua Nerano mi fa piacere che ti sono piaciuta ed è piaciuta diciamo che stanno andando stanno funzionando dove sta? la padella magica dove sta? la padella magica eccola eccola qua signori carissimi amici la padella magica di Don Salvatore qua signori mi sono chiusi e arriva questo Don Salvatore se non la questa padella non mettete nei fornetti vedete che guai che ci è passato ecco qua ghiaccio questi sono piatti più mi raccomando vi fatevi per te le cose che più vi possono sembrare complicate e irraggiungibili invece con un poco poco di di pazienza mettiamo tre pelle perché sono belle rosse e con poco di pazienza ci vuole pazienza e tanta passione che avete altrimenti sicuramente non ci metti avrete grandissimi risultati garantiti ormai è un anno quasi che facciamo queste dirette per questi risultati vi state vedendo anche voi mettiamocelo un altro uovo ecco qua giovane mi dai una no no va bene così ok vistiamo mettiamo un poco di formaggio quello che avete un poco di caciocavallo non lo so vi ho detto un po' di fior di latte un po' di prova mettete non vi preoccupate mettete che mi permettete troverete se non ci mettete niente niente trovato no giovane ecco qua il forno è acceso no no vabbè accedete peppe d'antuono dice sempre un piacere vederti all'opera peppe d'antuono e ti telefono dopo sei sei speciale e c'è anche carlo olivari che ci saluta mercedes ad angri peppe d'antuono di una garanzia di grandissima professionalità e peppe che io lo metto in cuoce è stato veramente speciale grazie veramente poi ci tendiamo con carne allora aggiungiamo un po' di salame Giovanni non ha acceso il forno c'è Marisa Giordano che chiede per me che non mangio carne se non metto il salame è buono uguale si si è buonissimo non è godurioso come questo un po' di formaggio grattugiato guardate che cos'è sta bomba domica questo poi non sarà per carnevale come quello della settimana scorsa il migliaccio senza pasta diventerà un must che lo potete una volta a settimana non una volta all'anno perché questo è buon dentro ma il flow è provato ma già così è una cosa esagerata guardate qua già così guardate come fai da dire vabbè ora mi metto in un'altra se mi mangi sale sale ditelo c'è Antonella Messina che da lavoro ci segue cari Antonellucci sei sempre speciale grazie sempre di tutto Antonella non scrive la licenza ecco fate una di avere per la causa e andate guardate che cos'è mamma c'è Giacco che chiede ma la pasta si deve stracciare nel migliaccio come si deve stracciare Giacco si spezza si rompe si si rompe vabbè tu la no io l'ho messa intera tanto durante la cottura Giacco comunque si scassi tutte cose l'importante è che tu quando la scoli sia bella al dente eh guardate guardate guardatemi per paura perché questa qua eccolo qua accendiamo la fiamma c'è Lucia di Simone che dice il migliaccio con la pasta si chiama tianiello metti la fiamma in un lato bassissima e lo facciamo andare ecco qua chiedono se si chiama tianiello il migliaccio con la pasta ma non lo so non ne ho idea se si chiama tianiello non 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 so allora teglia bella ingurrata non lo facciamo troppo alto eccolo qua è arrivato posti Gigetto Marrone ci saluta ciao Gigetto buonasera eccolo qua ecco qua ok e Don Salvatore dice la differenza del migliaccio con la pasta la fa la padella un po' cortino di burro e imporniamo a 170 gradi per una mezz'ora 40 minuti vai Giovanni vai imporno e abbiamo fatto due crema migliaccio rossa andiamo avanti allora farina il postino zucchero il postino burro metti qua dopo le pietre burro Gina Fusco chiede se il migliaccio con la pasta si può cuocere anche in forno si 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 può cuocere in forno Gino Gina però però fritterà da forse ma poi è fritto con pochissimo olio per questo non devi avere paura di di ecco spazziamo un poco l'uovo provando si sta apprecciando con il tigolo Gio limone arancio dove le pietre per favore francesco paone ci porta i saluti dei pompieri di griginiano di avversa caro francesco buonasera ti ringrazio e tantissimi saluti pure a te e al fantastico corpo di griginiano del fuoco timoti questo timoti ha visto c'è lucilla capobianco ciao timoti ti ho sentito un abbraccio a tutti qualche gatta è passata allora te lo metto un altro corpo di agrume eccoli qua qui mettiamo un poco ma è bene generoso generoso c'è carlo olivari che ti paragona ad un'acropata felice e lui si arricrea dopo delle giornate pesanti caro carlo sei sei speciale lo sai quando ti voglio bene e poi di pure i patti diciamocelo marco la ricetta porta quattro uova vedete l'uovo un poco più grande è venuto un poco mollo di impasto dammi un poco di farina per questo se vi capita pure a voi non avete assolutamente nessuna preoccupazione mettete un cucchiaino di farina e andate avanti sono dolci tradizionali antichi per questo non sono super bilanciati e non dovete avere paura di sbilanciare il dolce se fosse capitato su dolci moderni allora sarebbe stata una cosa più complicata perché sbilanci totalmente invece un po' di farina lo fate rapprendere ecco Giova vai a girare un po' il migliaccio là lo l'ho girato adesso ah ok ecco qua dammi la stecca Giova così abbiamo aggiunto pure un poco di limoncello e lo andiamo a lavorare facendo bella una vi faccio vedere mi raccomando la consistenza come deve essere allora guardate qua vedete guardatemi no perché sono belle perché voglio che non perdete nessun passaggio perché vedete che la lavorazione lo tiro dentro poi giro ecco bello quanto è bella liscia è morbida guardatela vedete così vi rendete conto di cosa parliamo della consistenza ok questa mettiamo qua questo lo puoi pulire e lo copriamo ci fuori ma un attimo la mano allora io devo fare un grandissimo proprio una cosa eccezionale proprio da essere una cosa rossa giriamo sempre il migliaccio vedete piano piano lo giriamo sui lati deve cuocere piano piano e deve prendere coloro un po' dappertutto allora i ringraziamenti devono essere fatti tracce di loro allora intanto facciamo così i ringraziamenti li devo fare a Gabriele Bonci il Michelangelo dei lieviti della pizza chi ha veramente trasformato l'idea della pizza in un piatto di uno perché le pizze di Gabriele quando mangi un morso delle pizze di Gabriele è una cosa esagerata tu mangi un piatto ci sono degli abbinamenti degli accostamenti strepitosi su una base eccezionale io lo voglio ringraziare perché oggi ha emozionato tutti mi hanno letteralmente riempiti il telefono di messaggi con un sacco di amici che hanno visto il suo post su Instagram che parlava del panettone di Francesco allora mongole e no mettiamo giù broccoli ecco le cimenti e Gabriele ha mangiato il panettone di Francesco l'ha mangiato oggi 13 12 12 febbraio ha aperto il panettone di Francesco lui è sempre stato un grande stimatore del panettone di Francesco ma se andate sul sul suo profilo Instagram le storie le storie sentirete con le vostre orecchie cosa ha detto Gabriele Borgi riguardo al panettone di Francesco che veramente ci ha emozionato Gabriele grazie mille detto da te veramente è un complimento straordinario che fa sì che Francesco cercherà sempre di fare meglio c'è Cinzia amorosi che dice bonci numero uno della pizza come Peppe guida il numero uno della cucina tradizionale grazie grazie mille grazie grazie aglio olio peperacino e buon poveretto e buon poveretto diciamo che è la pizza allora mi piace san l'anno mi raccomando non ha dato di fretta bello da me una guarda perché che cos'è è bellissimo è una cosa E' una cosa commuovente, bernicelli, mettiamo giù con i broccoli, messo l'acqua, tagliamo, e poi ecco. E andiamo, man mano che si aprono, andiamo ad alzare le nostre vongole. Sabrina Catureghi ci saluta da Lucca. Buonasera Sabrina. E Rocchino da Parigi. Ciao Rocchino, tanti saluti. Eccola qua, facciamo andare piano piano, man mano che si aprono le vongole. Ancora c'è Claudia Navarra che chiede dove troverà le ricette con le quantità e la spiegazione nel dettaglio. Su Youtube tra lunedì e martedì e in settimana sulla pagina Facebook. Ci saluta Ferdinando Volpe. Buonasera Ferdinando. Allora, man mano che si aprono, vedete? Quelle sono belle, che aperte le togliete. Questo fa si che non avrete assolutamente vongole gommose. Voi dieci minuti, un quarto d'ora prima della prima. Mi avvertite per favore del tempo. Un quarto d'ora prima. Sì. Allora, vi ricordo le ricette che stanno andando sul sito di Repubblica. Ogni giovedì ci sarà un mio consiglio di ricette. Quindi sullo stesso ingrediente ogni mese quattro ricette. Ogni settimana una ricetta. Sempre con lo stesso ingrediente. Eccole qua. Già, su siamo. Le queste, nella C5-6. Rossana Rossoni ci saluta. E Colomba Savarese. Il tuo borgo, Bosco Alto, Bosco Alto, è spettacolare. Colomba, ciao, buonasera. Ecco. E facciamo andare sempre piano piano. Ecco qua. Questo è il suggetto. Che facciamo? Prendiamo un'altra padella. Gli mettiamo un altro filo d'olio. Ci arrivano i saluti dal Bartoto. Buonasera Antonio. C'è Lino che ci scrive. Ciao. Buonasera a te. Batto to. Una garanzia. Di che puoi uscire. Ricorda. Vieni con te. Serena Maggiulli. Ciao Serena. Buonasera. Come va? Lascio me che ho una decina. Ricorda. Avevo detta? Ciao. Francesco. Mi dovrei ricordare che dovevo chiedere. Mi ha detto se mi provano una pina. Ah. La pina. La pina. La pina. Non riuscivo. Non riuscivo a ricordare questa cosa. La pina. Se non fosse con te, non sei. Mi escevo. Juan Martin. Saludos desde Colombia. Non ho capito. Juan Martin. Saludos desde Colombia. Alla Colombia. Buon mattino. Colombia. Fantastico. Fantastica reazione. Bellissima. Mi ha sempre affascinato. La tua terra. Ciao. Ok. Se mi dai un comuglio. Giovanni. Finiamo qua. E intanto c'è Tina Puzzo. Dice. Ma il migliaccio dolce. va infornato. Il migliaccio dolce lo teniamo in forno. Ok. Eccolo qua. Giovanni. Vedete che cosi? Ah. I pezzi forti. mi raccomando. Allora mi raccomando. Questo prendete sempre la patata di tagliatola. Altrimenti facitelo guai eh. E la girate piano piano. Vedete? Che sta succedendo. Tieni. Tieni. Giovanni. Tieni. 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 Web community dice. Mi hai fatto veni a fare no? Me ne devo andare da davanti al pc. Web community. Quindi, a che udici? Immagina a me che li sto facendo e non li posso mangiare perché vorrebbe un poco di dieta. Allora, una volta messo a centro, iniziate lo stesso lavoro. Anche qua, mettete in un lato la fiamma, eccola qua, e li fate andare fiamma a fiamma. Lo spaghetti sta andando, e nel frattempo, eccola qua. C'è Velia che chiede traduzione del commuoglio per chi non è della zona. Questa è anche una lezione di lingua. Ma dimmi con chi si sa percivare. Rami, dai una tavola di velia, qualcosa così. Non vorrei rovinare la... Ah, è questo. Eh, pure io sentivo. Eh, è tutto il nuovo, è tutto il sforzo. No, mi sono guardata intorno. Allora, tagliamo la piccola tassagnola. E c'è Franco Gargiulo che dice, mica è la padella di Don Salvatore, è il commuoglio che fa la differenza. Eh sì, eh. Ma non è che la chiesa. La padella di Don Salvatore ci vuole, altrimenti che non facciamo niente. Li tagliate tipo gnocchi o stufoli. Mettete un po' di farina. Mettiamo sull'asse. Ecco qua, vedi che buttano uno in l'olio, giù, vedi se è pronto. Ah, ma dai di Don Salvatore fa la differenza. Ehm, giù, va. Eh eh. Ma non sui dico di regolarla, ne prendiamo un po'. Abbassi, è troppo caldo. Sì, vedo. Eh. Vediamo. Eccolo qua. mettiamo la batteria sul fuoco togliamo l'aglio e aggiungiamo il nostro vermicello con i broccoli e noi iniziamo a tirare nel sughetto delle bombole aggiungiamo un pocino d'acqua questo mi piace perché il buco deve pieno di ronza tipo si è fissato qualche dato sull'altro di stato e si è bloccato come diciamo Giovanni Caserta ci saluta e Luciano Capuano buonasera Giovanni come va? Luciano buonasera buonasera ecco qua queste sono buonissime come poco di farino li fate attaccare questo può venire anche più l'impasto però non è la stessa cosa c'è Mena De Rosa che dice se stessi io al suo posto avrei bruciato tutta la cucina no con tutte queste padelle ecco inizia a prendere forma e colore e intanto Camillo Zappacosta ci porta i saluti da amici di Forchetta e di Fiaschetta ciao Emilio Camillo Camillo un carissimo saluto a tutti gli amici qui Forchetta e Fiaschetta mi piace questa associazione bellissimo complimenti anche per il nome ecco qua inizia a friggermi questo se avete più tempo mettete e fate tutto coca quindi è stato che deve fare tutto in pochissimo tempo per questo faccio la cosa sempre più veloce mi raccomando mettete la farina un pochissimo un pochissimo un pochissimo un pochissimo e questo è pronto lo mettiamo qua vediamo un attimo come è il sale Carlo Morelli ci saluta poi ci sono gli admin che ci salutano aggiungiamo le mongole buonasera Carlo un carissimo abbraccio ai miei carissimi admin allora abbiamo aggiunto le mongole sgusciate e quelle con con il muscio ora già ti devono aprire un po' perché rischia ecco qua il secondo fisco che avevo fatto l'olio agio l'olio che ho fumato all'aglio lo andiamo ad aggiungere altri po' e facciamo la bella mantecafe eccolo qua andiamoci qua poi nel mischiaggio potete metterci quello che volete se avete dei ciccioli o qualcosa del genere credete quello che più vi piace riguarda i saluti ecco eccolo qua eccolo qua bene 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 le togliamo le togliamo questi qua diciamo la scarpetta la possiamo chiamare chiamiamola la scarpetta la togliamo questa qua poi me la mangio io andiamo a posizionare due mongolette sui bordi guardiamo tutto il fondo con le vongole e questo qua è un fantastico spaghetto che potete preparare per la sera di San Valentino facendo con chi è stato al ristorante c'è Peppe Badestino che dice porzione all'Orazio Fatman una porzione per due dai eccolo qua no no che c'è rum parlate con Don Zermatore vedete lui che si mangia noi mi chiamo è sempre da eccole qua mettiamo qua insegniamo questa c'è Fabio Caragnolo che dice chef per me puoi anche lasciarli in padella mangio direttamente da lì e poi mettiamo qua qualche cimetta di broccoletto eccolo qua oh ti raccomando eccolo qua carissimi amici se lo mettete in carta fatta così è troppo bello poi come dice i borgi i grandi borgi imitate ma non copiate si a mano portico mi piace sta andando il mi piace intanto manca un quarto d'ora avevi chiesto un quarto d'ora teniamo proprio il tempo meno piatti stasera ma sono più strutturati per questo non vi garantivo per chi ci vuol dire per farse cose ma sono delle cose dei piatti che sicuramente vi faranno piacere ripetere tutti i giorni Piero S dice per la sera di San Valentino eviterei l'aglio a me mi piace soprattutto il profumo di aglio mezzo bruciacchiato mi piace a qualche assai fa proprio qui a casa vai Giovanni vai che stai nell'aglio vai 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 non lo raccino vai mettiti il resto sull'asse il migliaccio intanto il migliaccio sta andando vedete le castagnole devono cuocere a bassissima temperatura perché si devono man mano aprire devono avere il tempo di cuocere mettiamo piano piano ecco qua vai Giovanni togli tutto che dobbiamo fare un attimo lo servizio Francesco Bombolo ci saluta dalla Florida Francesco e c'è Antonio Di Maio che dice hai messo troppo prezzemolo e andò tu se li fai non ce lo mettere io prezzemolo non l'ho messo guarda che erano broccoli ma comunque il prezzemolo ci va ma tu se non non ce lo mettere poi se se lo fai meglio non mi guarda proprio che è meglio lascia perdere perché se tu non hai seguito non hai visto che ci ho messo solo i broccoli ma ti stai guardando Marco Capparone ci saluta ciao Marco allora ciao piano 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 la prossima a tutte quella per una sola volta non la mischiare con le altre ok allora spostiamo questo qua è appena arrivato il mio amico Tommaso ciao Tommaso buonasera vieni vieni portami il caciocavallo perché il cacio limone perché dobbiamo stasera facciamo il battesimo del cacio limone eccolo qua metti qua tutto a posto tutto a posto a posto Tommaso del Gennaro famosissimo caseificio di Vicar non riesco a riprendere eccoci qua ecco qua allora voi sapete del cacio limone finalmente sono pronti i timbri a fuoco per battezzarlo e per finalmente lanciarlo a nome del caciocicio del Gennaro è un battesimo importante mi raccomando quando non si aspetta arriva arriva sì sì è abbastanza lunga eccoci qua timbra a fuoco rosi guardate che spettacolo il mio qualche filo eh no il tuo sì metti prima il tuo anzi io facciamo così ma metti il tuo io eh esatto aspetta dritto così si legge interno o nell'altro così ti conviene prenderlo così ma è meglio ok è la prima come un mini pin usiamo come un mini pin basta è uno spettacolo ci fanno un guai fai così allora ho fatto un guai non si legge aspetta no no facciamo dimmi così esatto va bene si legge si legge domani così così vorrei accedere io faccio ecco qua tutto strano è la prima volta ah va bene va bene ah devi inclinarlo sì ecco ecco qua ecco qua ecco qua ecco ecco qua ma adesso adesso battezziamo il tubo eh ma battezziamo questo lo devi mettere di lungo vediamo esatto vediamo di lungo queste sono le prove fanno di traverso tutto marchiato poi questo ce lo mangiamo noi eccolo qua sì 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 e l'abbiamo battezzato complimenti per questo grandissimo formaggio spero che ci dia grandi soddisfazioni vai 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 sono tanti ecco ecco i commenti wow Tommaso signor formaggio da Carla Farina ti fanno tantissimi complimenti grazie buonasera a tutti eccolo qua ecco ho venuto fuori o bene per te benissimo bellissimo la voglio mettere vicino ci si è acceso eh no non spinto adesso è la tua eh ecco del caldo lo metteremo prima una e poi un'altra vicino lo vogliamo mettere le mettere per un due lato e poi c'è due lato facciamo le prove ecco no lo spegno ecco ecco è pronto mi piacciono sì le metteremo alternato sì così ogni fetta che facciamo viene il lato che quell'altro va bene ecco qua cioè Missile Sobek dice momento storico sì è una cosa troppo bella fare un battesimo di un prodotto del genere veramente è una cosa bellissima di grande soddisfazione ci devi trovare dedicato un bel piatto eh cioè no non uno il dulce sicuramente uno già ci abbiamo pensato che fra una decina di giorni si non lancieremo questa cosa ma sarà per un delivio per farvi i piatti un po' in giro si può dire e Lucia Colella dice viva il casolimone autografato viva il casolimone autografato marchio di canzi eh sì bello bello ecco qua così ok perfetto allora ritentiamo la mancata con la super tiella di don salvador eccolo qua così così deve essere una scorza fantastica di formaggi semola pasta salumi diciamo questa è come fosse una scorza di scaglie a suon di musica arriva Pasquale De Gennaro che dice siete luminosi e belli grandissima gastronomia piccola ma come i grandi vini piccola botte con grandissimi piccola ma piena piena di grandissimi prodotti un'altra grande ci hanno invasi di auguri per questo battesimo grazie un'altra grande eccellenza vita allora ecco qua il migliaccio questo andrebbe raffreddato e poi sformato perché altrimenti non per questo non vuoi girare come vuoi spiegare no per questo fai come rodo con olio eh ben bene come rosario fai come con muoio speriamo che non si non perché mi dispiacere ecco va bene avete visto che cos'è questo è un fantastico spettacolo ecco zucchero allora spossiamo qua vedete quante sono belline carine carine eccole qua girate velocemente potete anche profumare lo zucchero di cannella c'è c'è Antonio palumbo che dice Peppe ti vogliamo a Dubai ciao Antonio prima o poi mi vedete sbarcare a Dubai faremo e prima faremo una serata sulla pasta ma guarda no mi fai ricordare una cosa vedi che non passerà molto tempo che sentirei parlare di me anche a Dubai avete avvertita la nostra carina che si sta collegando con il mondo cioè Antonio la nostra sorelina Carolina che piace smanettare e se scordate ci stiamo guardando però se scordate che siamo eccole qua se volete potete usare anche zucchero a velo buonissimo dai qua grazie migliaccio calza migliore non vi dimenticate il sanguinaccio senza sangue di caciocavallo senza sangue di aspetta aspetta mi viene il discorso che fa proprio e guai questa è un'arma letale sentite questa qua la dedica a bonci perché ripeto ci ha lasciato di stucco e prima o poi Gabriele la faccio e te la anzi te la preparo per te appena ti trovi in zona chiamami perché sicuramente non lo conosci questo piatto dell'antica tradizione della costa delle nostre parti non so se è napoletano precisamente e te faccio questa cosa che è qualcosa di sconvolgente ecco eccola qua non si può capire non si può capire se non la mangi giù c'è tettina che si è collegata ora non era collegata 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 diome de massimiliano e rosa pastore ci salutano ecco qua diome ecco non è tettino quando manca ok tre minuti allora avevo qualche altra cosine da da mostrarvi ma sono piatti che ci hanno avuto un poco di tempo però mi daranno grandissima soddisfazione per questi giorni lo potete festeggiare pure per la San Valentino una cosa che dice perché immaginate fate un grandissimo antipasto della pizza che dice poi mi mangiate uno spaghetto del genere che non ci viene niente con carne male però facciamo pure qualcosa di più a tema coppiette per un po' tutti i grassi di maiaro che si porterebbe tutto grassa fricce strusce ciccioli e tutte queste cose qua poi un po' di formaggio sistemato bel migliaccio due tassagnoli con un po' di sanguinaggio e salto buoni dai suoi dormiti una buona bottiglia di vino e fate una fantastica una fantastica serata fatelo provatelo perché anche a pezzi e tostati in padella è straordinario il migliaccio una volta riposato lo potete servire con una salsa inglese una pallina di gelato se l'avete una salsa al limoncello niente pur è troppo buono bene io vi ringrazio vi ringrazio sempre per le condivisioni vi ringrazio per quello che fate e per quello che farete vi ringrazio per il grande affetto che avete mostrato quando è uscito il post sulle HCD avete veramente mostrato un affetto incredibile speriamo che riusciremo a fare bella figura come abbiamo cercato di fare anche in altri posti ci abbiamo messo il cuore e l'anima in tutti i posti dove siamo stati speriamo di riuscire anche alle HCD vi ringrazio vi auguro un buon bellissimo San Valentino un buon carnevale e c'è un rimo Pierna buona serata e che stai ciao